Salve amici, siamo in qualunque negozio Vodafone, come vedete, e c'è una super offerta. Passando a Vodafone, minuti e messaggi limitati, ma anche giga illimitati, a solo 9,99 euro, per chi passa da Iliad, Fastweb, Copvoce e altri virtuali. Va detta una cosa, non vale per chi passa da Verymobile oppure da Windtree. I giga illimitati sono in 4G e si pagano 10 euro per la nuova SimCard e un centesimo per il passaggio. Si chiama Bronze questa offerta e onestamente è molto interessante soprattutto per chi, facciamo una chiacchierata passeggiando, è molto interessante per chi ad esempio non vuole avere internet a casa e usa molto internet, perché avere i giga illimitati sia pure in 4G, perché in realtà si hanno solo per un mese in 5G, è comunque molto interessante, ha solo 10 euro al mese e per almeno due anni. Va detto però che questi 10 euro, 9,99 euro, vanno accreditati sul conto corrente oppure sulla carta di credito. Quindi loro hanno la sicurezza di essere pagati per due anni e voi per 9,99 euro al mese avete un'ottima rete e in 4G con minuti illimitati, giga illimitati e messaggi illimitati. Ripeto, secondo me può convenire a chi per qualche motivo non ha la fibra ottica, ad esempio lavora come stagionale, non lo so, e usa molto internet, oppure sicuramente per gli altri conviene fino a un certo punto, perché capite bene che se voi prendete 200 giga con 7,95 euro, ad esempio con fast web, beh insomma è difficile superare i 200 giga, ma vi garantisco che se avete la fibra ottica a casa è difficile superare anche i 70-80 giga. Beh, arrivederci e spero che questi contenuti vi piacciono.